Ciao, in questo video vediamo insieme, iniziamo a vedere insieme dei nuovi modelli di visualizzazione, quindi delle nuove viste, delle nuove views, per quanto riguarda l'articolo che abbiamo messo in piedi, per il modello che abbiamo iniziato a creare nei video precedenti, per la rappresentazione di un articolo del blog, quindi fondamentalmente useremo l'articolo del blog come scusa per andare a scoprire nuove views già fatte, già preconfezionate all'interno di Django, che ci torneranno molto utili per rappresentare gli articoli del blog in forma di dettagliata, quindi una rappresentazione di dettaglio dell'articolo, e poi successivamente anche in forma di lista di articoli. Per avere un riscontro, un raffronto con la documentazione ufficiale, possiamo andare nella pagina della documentazione ufficiale di Django, andare a cercare le parole chiave generiche class-based views, per fare l'esempio da zero, class-based views, ecco qua, ops ho sbagliato a scrivere, views, ok, come vedete viene fuori un elenco abbastanza corposo di possibili pagine di documentazione da guardare, perché l'argomento è molto molto vasto. Inizieremo a prendere in esame solo alcuni di tutti questi temi, nella fattispecie vi consiglio di approfondire la lettura partendo da class-based views, il primo dell'elenco, nella sezione using Django, adesso lo apriamo in un'altra scheda, poi andiamo a vederlo, e successivamente invece ci baseremo su built-in class-based views API, che fa parte dell'API reference, quindi questo possiamo aprirlo direttamente. Come vedete nella built-in class-based views API abbiamo un elenco di tutte le viste, le views disponibili preconfezionate all'interno di Django, come vedete sono tantissime tantissime e con vari scopi, funzionalità. Per partire da zero, quando non si sa un attimino come orientarsi, consiglio l'altra pagina che abbiamo aperto, class-based views, nella sezione using Django, dove attraverso quattro sottopagine ci sono le prime spiegazioni, le prime nozioni base per quanto riguarda l'utilizzo di queste views già preconfezionate, ed è una spiegazione anche molto ben fatta, quindi vale sicuramente la pena dargli un'occhiata. Nei prossimi video noi prenderemo in considerazione due di queste viste, che sono la Detail View e la List View, appartenenti alle Generic Display Views. Quindi andiamo a vedere Generic Display View. Esatto, la Detail View è la prima che andremo a vedere già in questo video. Poi nei video successivi andremo a conoscere la List View. Allora, la Detail View a cosa serve? La Detail View è una vista preconfezionata che consente di esporre, di visualizzare, di realizzare una pagina facilmente con tutti i contenuti di un modello dati inserito nel database. Noi abbiamo realizzato l'altra volta il modello Article, contenente tutta una serie di campi, titolo, slag, image, eccetera, eccetera, e abbiamo già realizzato una sorta di interfaccia lato admin, lato amministrativo, che abbiamo scoperto ci permette di creare molto facilmente e molto velocemente un form in cui inserire i contenuti nel back-end. A questo punto ci manca da scoprire come creare e mandare una pagina rappresentativa dell'articolo nel front-end e per questo useremo appunto la Detail View. Ora, non c'è come vedete molto da leggere nella parte diciamo della API Reference, più che altro ci sono dei rimandi alle spiegazioni di dettaglio di tutta una serie di chiamate caratteristiche che sicuramente vale la pena approfondire. Alcune di queste le vedremo già nel dettaglio facendo il nostro esempio pratico. Come vedete la pagina di spiegazione è molto ben fatta, riporta già come creare una generica view, come collegarla tramite URLs al resto dell'applicazione e come fare a impostare un template per utilizzare questa view. Seguiremo grandi linee questi tre passi però un po' più diciamo a modo nostro. Allora, abbiamo detto questo è il model, dobbiamo andare a realizzare prima di tutto una view che rappresenti questo model. Quindi ci spostiamo nel file views.py della nostra ovviamente app Articles. Ovviamente una vista superficiale di tutto quello che andremo adesso ad approfondire, l'abbiamo già avuta, l'abbiamo già fatta in passato. Se andiamo a vedere l'app landing page, il file views di landing page, quando abbiamo creato la landing page view, che era una class based view appunto, se vi ricordate abbiamo ereditato da una vista preconfezionata chiamata template view, che ci ha permesso di creare l'home page in 4.48. Il principio è lo stesso, semplicemente adesso andremo ad approfondire un po' di più questo meccanismo e andremo a esaminare più che altro dei modelli di view differenti da quelli che abbiamo usato finora. Quindi torniamo pure alla view di Articles. La prima cosa da fare è andare a importare nel file in questione, nel file views.py, la view che vogliamo utilizzare, per renderla disponibile. Quindi cancelliamo il commento. From. Le views, per fortuna il percorso è abbastanza autoesplicativo, tuttavia qualora non ve lo ricordaste a memoria, cosa che per esempio io non ne ricordo mai uno a memoria, potete andare a verificarlo facilmente nella documentazione. Per esempio, volete usare una detail view, andate a cercare la detail view e come vedete nell'esempio pratico c'è scritto chiaro e tondo che cosa bisogna andare a importare. Quindi, from Django.views.generic.detail.import.detailview. Eccola qua. Così facendo abbiamo reso disponibile questa vista chiamata detail view all'interno di questo file. Abbiamo bisogno di un altro passaggio. Perché? Perché noi dobbiamo andare a collegare la vista detail view al nostro modello article. Guardiamo un attimo la documentazione. Nell'esempio pratico viene creata una classe chiamata article detail view, che è eredita da detail view, e viene definita una proprietà chiamata model uguale a article, che è il modello importato precedentemente. Noi faremo praticamente la stessa identica cosa. Quindi andiamo a importare il modello che vogliamo utilizzare. Quindi, from. Possiamo importarlo, per esempio, con punto, perché siamo in un percorso locale. Nell'esempio ovviamente viene importato article da articles.model, dove articles è il nome dell'app e models è il file model py. Nel nostro caso, perché qua non si assume che stiamo facendo una view in un'app separata. Invece, diciamo che vogliamo realizzare una view proprio nell'app che si occupa dell'inserimento degli articoli, quindi noi ci troviamo con il nostro file views py, già nella stessa cartella radice, dove è presente il file che definisce il modello, quindi models py. nel nostro caso, quindi, possiamo usare il punto che, ricordiamo, indica il percorso relativo della stessa cartella di origine del file in cui siamo, cioè views. Come from.models.importarticle. E così abbiamo reso disponibile il nostro modello article all'interno di questo file. A questo punto dobbiamo andare a definire, vedete la documentazione, una classe di detail view che eredita appunto da detail view. La chiameremo, per simmetria con il modello che utilizzeremo, class article detail view. E ereditiamo, tra parentesi, da detail view, due punti a capo. Come prima cosa, come da esempio della documentazione, andiamo a definire una proprietà model, che è una proprietà che la classe di detail view si aspetta che venga definita. E ovviamente dobbiamo dargli l'articolo, l'article che abbiamo appena importato. A questo punto dobbiamo andare a definire, o meglio ridefinire, non definire, ridefinire alcuni dei metodi di questa classe. Per personalizzarli, nell'esempio della documentazione ufficiale, va a ridefinire il getContextData, che è una delle funzioni presenti, definite all'interno di questa classe. Vedete, getContextData, andiamo a vedere la scheda, la documentazione di dettaglio di getContextData. GetContextData, returnContextData for displaying the object. Fin qui, abbastanza facile. Vi ricordate cos'è il ContextData? Abbiamo già avuto modo di metterci mano, che sia sempre in maniera superficiale, in precedenza con la landing page. Torniamo sulla nostra view della landing page. Vedete che abbiamo, nella nostra class-based view, che ereditava da template view, tra l'altro, notate che essendo una template view, noi avevamo ridefinito il template name come proprietà, allo stesso modo in cui adesso nella detail view stiamo definendo il model. Nella landing page view avevamo ridefinito un metodo della classe chiamato getContextData, che è quello che stiamo per rifare anche nella detail view, che ci permetteva di inserire appunto un context, quindi dei dati di contesto personalizzati tramite una query. Più o meno facciamo la stessa cosa, quindi niente di nuovo. Solo che qua non avevamo avuto molto modo di approfondire perché c'erano troppi concetti nuovi tutti insieme, adesso magari li vediamo un po' meglio. Quindi, la getContextData è un'implementazione base che permette di utilizzare l'oggetto, il modello che viene importato e trarne fuori fondamentalmente tutte le informazioni da passare come contesto alla vista. Quindi, torniamo sulla nostra generic display view, detail view, ecco qua. Il getContextData di esempio è praticamente, come vedete, quasi uguale a quello che avevamo definito nella nostra landing page. Quindi, andiamo avanti a definire questa funzione, getContextData, nella nostra nuova classe, articleDetainView, quindi def, perché è una funzione, quindi si inizia con def. GetContextData. Come argomenti possiamo lasciare quelli di default, come vedete, è self per accedere alle altre proprietà della classe, più le keyword arguments, quindi self, virgola, quarks, ok, due punti, e... allora, di prassi la prima cosa che si fa è andare a definire un context, context, prendendolo dalla chiamata alla classe genitore, che potrebbe o non potrebbe automaticamente già farcirlo con dei contenuti, diciamo, di default. Quindi si chiama super, che è il modo di accedere al classe genitore, da cui stiamo ereditando, quindi della detail view, super, punto, getContextData. Perché, appunto, noi la stiamo ridefinendo nella nostra classe articleDetailView, ma questa funzione, questo metodo, è già definito nella classe padre, quindi se noi non lo ridefinissimo, di fatto, verrebbe chiamato il contextData della classe padre e basta. Ridefinendolo, noi possiamo andare a intervenire su questo context per modificarlo, però, invece di crearlo da zero, escludendo quanto avrebbe riempito, quanto avrebbe messo dentro la classe padre, quindi detail view, noi prima lo inizializziamo con il contenuto generato dalla classe padre, per poi estenderlo ulteriormente. Questa è una procedura abbastanza standard, quando si ereditano delle classi. E ribaltiamo le keyword arguments, quarks, perfetto. A questo punto possiamo andare a fare l'eventuale aggiunta al nostro context, quando e come vogliamo, lasciamo dello spazio, poi ci torniamo dopo, e facciamo return di context, perché ovviamente il getContextData deve restituire un context. E per il momento direi che la nostra interpretazione, la nostra implementazione dell'article detail view mi sembra già sufficientemente completa per, quantomeno per andare avanti con la spiegazione. Prima poi di personalizzarla, vorrei finire di vedere tutta la catena del flusso di informazioni. Vi ricordate come funziona il flusso dati all'interno di Django? Funziona così. Il browser chiamerà una determinata pagina, tramite gli URLs, ad esempio nel momento in cui siamo sull'home page, lo URL è questo, localhost 8000 con CBS, che poi adesso andiamo magari a togliere, che ormai fa parte dei video vecchi, non ci serve più. Questo URL viene interpretato dal file, URL principale, quello del progetto, dove vengono smistati gli indirizzi in base a determinati criteri. Se non ci sono particolari richieste che combaciano, andiamo a rigirare, come vedete qui, i percorsi che non hanno chiavi di URL, chiavi di ricerca specifiche, vengono rigirati su un altro percorso, che viene incluso dall'ending page URL, quindi andiamo a vedere l'ending page URL, eccolo qua, e qui abbiamo, se la chiave di ricerca dell'URL corrisponde a CBS, allora chiamiamo la nostra view, l'ending page view, e qui dobbiamo fare la stessa identica cosa anche per la nostra detail view. Quindi, poi le collegheremo insieme agli altri in un percorso più organico, per il momento ci limitiamo solo a fare una vista generica. quindi, torniamo in URLs, non del progetto, non della landing page, ma della nostra articles, quindi, URLs non c'è, non c'è, dobbiamo crearlo, tasto destro, new file, urls.py, perfetto, questo punto possiamo, tanto perché mi piace avere sempre, soprattutto quando siamo alle prime armi, fa molto comodo avere queste mini istruzioni integrate come promemoria, quindi io parto sempre da uno esistente, lo copio, lo incollo di là, e poi lo modifico, quindi copio lo URLs di landing page, e lo incollo in URLs di articles. Ok, abbiamo quindi un file URL di partenza. A questo punto, abbiamo già anche per fortuna, avendo copiato quello di landing page, dove abbiamo già usato una view, abbiamo già l'import delle view dal percorso relativo, quindi in questo caso staremo importando le views di articles, e non le views di landing page, usando il punto. non ci interessa avere l'FBS, che adesso andiamo a togliere anche di là per pulizia, il CBS non c'entra niente con il nostro article, dobbiamo dare un nome a questo percorso, a questo URL, che nome gli diamo? Vediamo intanto la documentazione ufficiale cosa suggerisce. Facciamo un po' di pulizia, ho aperto un sacco di pagine, perfetto, questa è quella della detail view, ottimo, nella detail view, nell'esempio di URL, lui cosa fa? Va a utilizzare come percorso, slag, due punti, slag, tra maggiore e minore, che cosa vuol dire questa sintassi? Fa parte della sintassi del file URL, il file URL, finora noi l'abbiamo visto, è utilizzato, solo per specificare delle stringhe, delle parole chiave tramite stringhe, stringhe vuol dire dei caratteri di testo racchiusi tra due apici, andiamo a vedere quello della landing page, come vedete è una stringhe di testo scritta da noi, di tre caratteri più lo slash, che è il carattere terminale che si mette praticamente sempre, andiamo a vedere quello generico, gli URLs del progetto, anche qui sono stringhe generiche classiche, tuttavia Django permette l'utilizzo di particolari costrutti, particolari parole chiave all'interno del primo campo di path, per identificare delle stringhe, delle parole chiave che compongono l'indirizzo, che non sono ancora note, ma che vengono costruite sulla base dell'oggetto che si sta utilizzando, quindi è un po' complicato, sarà più facile appena lo vedremo messo in pratica fondamentalmente, andiamo a chiudere quello che non serve, nel nostro model esiste una property chiamata slug, che è del tipo slug field, noi possiamo utilizzare questo slug, appunto, ed è una prassi da fare di solito, quando si visualizzano articoli o pagine, utilizzare lo slug che è fatto apposta per lo scopo, utilizzeremo lo slug per comporre lo url, dato che noi lo slug non lo sappiamo a memoria, comunque non possiamo inserire uno slug differente in url patterns per ogni articolo che scriviamo, utilizzeremo un costrutto specifico, quindi minore slug.slug, maggiore, e se non vedete ho semplicemente scritto quanto era già scritto nella documentazione ufficiale, c'è sempre lo slash finale, eccolo qua, cosa vuol dire questa stringa? Vuol dire che il campo tra maggiore e minore non è da interpretare come caratteri scritti da noi, come era nei casi precedenti che abbiamo visto, ma è da interpretare come una variabile da sostituire con un determinato significato. Questa variabile di che tipo è? È una variabile di tipo slug e conterrà la proprietà dell'oggetto chiamata slug. Se voi non aveste chiamato, nel vostro model, non l'aveste chiamato slug, ma pippo, qui avreste dovuto mettere slug.pippo, per esempio. Poi andiamo a vedere un attimino meglio come si trova la documentazione in merito a questa struttura di, questa forma di scrittura. Quindi, diciamo che per il momento abbiamo scritto qualcosa di poco comprensibile, ma che a breve vedremo come funziona. Sappiate solo che stiamo riferendoci, quindi nello URL, a una variabile di tipo slug che conterrà appunto lo slug dell'articolo. Dopodiché chiameremo views, quello importato, il nome della classe che stiamo importando, facciamo finta di partire da zero, cancelliamo tutto, quindi views. ArticleDetailView, che è la nostra vista, punto, asView, e le due parentesi perché è una funzione. Dobbiamo dare un nome alla nostra view, un nome generico, che sarà, per esempio, article-detail. Vediamo come lo chiamavano la documentazione ufficiale. Ah beh, è uguale, article-detail, come l'ho detto, va benissimo. name uguale article-detail. A questo punto, il nostro file URLs della app articles è completo. Prima di andare avanti, spendiamo ancora un minuto su questo costrutto, perché vale la pena. Andiamo alla documentazione ufficiale di Django, andiamo a aprire una pagina nuova di documentazione, andiamo a cercare urls. Eccolo qua, url dispatcher. Andiamo a vedere se ho beccato al volo la pagina giusta. qui, ecco, qui già nell'esempio potete vedere altri modi, sì, questo è utile. Allora, in questo esempio potete vedere già altri modi creativi di utilizzare questa potenzialità di Django. Per esempio, può essere utilizzata, voi dovete immaginate di dover mettere una list view di articles di un certo anno, filtrati per un certo anno. Può essere scritto ovviamente in chiaro, come abbiamo sempre fatto. In alternativa potete scrivere article slash, e usare ancora questa costruzione, tra maggiore e minore, dicendo seguirà una variabile di tipo intero chiamata year, in cui ovviamente qualcuno passerà un anno. Quindi il concetto è se nello url ci sarà scritto 2003, lo url scritto in questo modo andrà a interpretare il 2003 come una variabile di tipo intero da ricercare in una proprietà dell'oggetto chiamata year. Allo stesso modo potete andare avanti a classificarlo in vari modi, per esempio potete fare uno url composto da year, month, sempre come intero intero, e poi slag. E quindi come vedete potete comporre a piacimento gli url variegati senza bisogno di scriverli esplicitamente tutti, ma facendoli comporre direttamente sulla base di che cosa viene interpretato. Ripeto, sarà più chiaro poi con degli esempi pratici. Quante e quali possibilità ci sono di identificare questi path, si chiamano path converters, quindi convertitori di percorso diciamo in italiano. Potrebbero essere di tipo str, cioè stringhe di testo, di tipo int, numero intero, di tipo slag, che appunto abbiamo scoperto essere un field apposito, potrebbero essere di tipo uid, che è un identificativo alfanumerico univoco, oppure di tipo path. Fondamentalmente non sono tanti tipi come vedete, e sono in genere, ricadiamo quasi sempre in questi casi, che coprono un po' tutte le esigenze. Ok, non voglio spendere troppo su questo, torniamo sulla nostra detail view, perché abbiamo definito la view, abbiamo definito lo url che dovrà interpretarla, anche se per il momento non abbiamo ancora collegato lo url di articles al nostro progetto, poi lo faremo, e per finire avremo da definire un template che dovrà visualizzare il nostro articolo. Per esempio, questo è interessante, potremmo iniziare a creare un template all'interno di articles, vi ricordate in landing page abbiamo creato una sottocartella templates, in cui un'altra sottocartella con lo stesso nome dell'applicazione, per non creare confusione con i nomi dei file, e poi i nostri template. Questa è un'ottima occasione per introdurre un argomento che è successivo, quando abbiamo affrontato il discorso dei template view e dei parzals, abbiamo iniziato a creare dei piccoli blocchettini di codice da ricomporre. Ci manca un ultimo passaggio, che non abbiamo ancora visto, e lo vedremo quindi nei prossimi video, di estendere il template base con nuove funzionalità, o nuove caratteristiche, e lo faremo proprio usando la nostra app articles. Per il momento limitiamoci a creare un template base, quindi tasto destro, new folder, creiamo la cartella templates, slash articles, e questa è la doppia cartella, quindi la cartella templates, che contiene la cartella articles. Dentro qui, tasto destro, new file, e lo chiamiamo, visto che abbiamo chiamato la view article detail, lo chiamiamo article detail. Fate un po' attenzione, e qui è un po' complicato, però fate attenzione a come chiamate i file. è convenzione, è prassi, che non si usi di solito, e poi anche qui so che ci sono diversi approcci, però io tendenzialmente uso sempre l'underscore, per i nomi dei file, mentre tendenzialmente uso il trattino, quindi il trattino alto, il meno fondamentalmente, per quanto riguarda nomi composti all'interno invece del codice, che non rappresentano dei file. Non è strettamente necessario il trattino alto qua, si può usare l'underscore tranquillamente, anche all'interno del codice, però per i file invece è importante usare l'underscore, perché Python non riesce a seguire dei percorsi composti, con il trattino all'interno, non è accettato come carattere, o perlomeno si complicano parecchio le cose, invece l'underscore viene interpretato senza problemi. Detto questo, abbiamo creato tutto, abbiamo il nostro blocchettino article detail, in cui adesso andiamo a copiare l'esempio preso dalla documentazione ufficiale, ctrl c, ctrl v, poi andando avanti ovviamente lo andiamo a personalizzare, a formattare, anche perché così su due piedi potrebbe anche non funzionare, tanto per dire esiste un now che noi non abbiamo, quindi questo now andrebbe già tolto. ok, perché non abbiamo inserito nella nostra view quello che c'era qui nel context di personalizzazione, quindi il context now preso da timezone now, noi per il momento non ce l'abbiamo. A proposito, questo render al momento non serve, quindi possiamo commentarlo per lasciarlo come memoria storica, poi se siamo sicuri che non ci servirà più lo andremo a togliere. E direi che per il resto siamo a buon punto. Ora vediamo se siamo in grado di avere una sorta di rappresentazione grafica di questa pagina. Per farlo ovviamente dobbiamo andare a collegare il nostro URL al resto del progetto. Perché? Perché vi ricordate che per poter caricare la landing page abbiamo dovuto inserire lo URL della landing page qui, tra l'altro approfittiamone, facciamo così e facciamo così. Ho fatto una piccola pulizia, ho commentato la vecchia function based view, ho lasciato solo la class based view, togliendo la parola chiave in modo che ci si arriva senza inserire nessun percorso particolare. verifichiamo che il nostro server sia attivo e non ci siano errori ed è tutto ok. Andiamo nella pagina del server, togliamo questo CVS che non serve più, andiamo direttamente in localhost 8000 e come vedete carica la pagina senza problemi. Ok, quindi questa è stata quest'ultima modifichina. A questo punto vi ricordate che nello URL del progetto, questo, abbiamo fatto sì che se non è specificato nessun percorso, si va a chiamare fondamentalmente gli URL della landing page. Adesso faremo un'ulteriore distinzione nel file di progetto, andremo a dire per esempio che, allora ricordatemi sempre la virgola in fondo a ogni riga, path e diremo che articles slash, quindi con questo prefix, con questo prefisso, andremo a includere articles, sempre tra apici, perché è un percorso articles.urls, salva, perfetto, e così facendo siamo andati ad aggiungere un ulteriore percorso di smistamento nello URL principale del nostro progetto, dicendo che se c'è il prefisso nello URL articles, allora deve andare a guardare negli URLs di articles. Gli URLs di articles poi smisteranno in base allo slug. Ora vediamo come fare un tentativo di visualizzare questa pagina, se non ho fatto errori, però il server sembra felice. Allora, se noi andassimo a scrivere semplicemente qua, slash articles, articles, piacerebbe sapere come non far comparire tutto lo storico dei siti e pagine su cui lavoro o che ho visitato, che vanno un po' fastidio. Ok, come vedete, se io vado a scrivere semplicemente articles, mi viene fuori un errore di page not found, però, dato che siamo in modalità debug, viene suggerito le possibili alternative. Come vedete, una delle alternative è quella che interessa a noi, la numero 3, articles, slash, slug. Quindi, questo è uno dei percorsi possibili da questo punto. Ora, dato che non abbiamo ancora la generazione automatica dei link delle pagine che metteremo più avanti, come facciamo a ottenere uno slug? Andiamo nel sito amministrazione. Nel sito amministrazione avevamo già aggiunto l'interfaccia ad articles. Abbiamo già inserito degli article campione, tipo primo articolo 001, tanto per dire, lo apriamo. Aprendolo, vedete, lo slug, lo copiamo. Torniamo alla nostra pagina, aggiungiamo, ctrl-v, primo articolo, slash, invio, ed eccolo qua. Ora, ovviamente il contenuto è vuoto, perché non abbiamo finito di collegare il nostro template alla base dati, mancano ancora dei passaggi. Però, intanto, come vedete, la catena dello URL che riceve questo indirizzo, sa che c'è dentro il prefix, questa è la radice, localhost8000 è la radice, non viene considerata perché è l'accesso al server. Poi, da qua entriamo nel progetto. Il primo URL di progetto, che è questo, dice, chiedo scusa, è questo, va a controllare subito dopo la radice che cosa c'è. Potrebbe esserci admin, potrebbe esserci niente, o potrebbe esserci articles. Se c'è articles, e in questo caso c'è articles, allora lui sa che deve andare a vedere gli URLs di articles. Andiamo nello URL di articles, e ci deve essere uno slug. Noi abbiamo messo uno slug. Ovviamente potevamo scrivere qualsiasi cosa, ma se avessimo scritto qualsiasi cosa, Django sarebbe andato a fare una ricerca di quello che noi avremmo scritto qui, all'interno degli slug disponibili per gli articles del database. Non avrebbe trovato niente, avrebbe dato errore. Invece noi abbiamo scritto uno slug valido, Django lo trova nell'elenco del database, e quindi ci va a riportare fondamentalmente il template correlato a questa article di Tailview. Ovviamente in questo momento l'article non contiene niente, ma solo perché non abbiamo corretto i campi da evidenziare, perché abbiamo per esempio headline, noi non l'abbiamo chiamato headline, l'abbiamo chiamato title, se ricordo bene nel nostro modello, il campo del titolo. Vediamo, sì, title l'abbiamo chiamato. E il corpo dell'articolo l'abbiamo chiamato body, quindi object.body. Poi reporter, non l'abbiamo chiamato reporter, l'abbiamo chiamato author, quindi object.author, e object.pubdate, noi invece l'abbiamo chiamato published, quindi object.published. salviamo, ricarichiamo, f5, ecco qua, che compare, primo articolo 001, che è il titolo del nostro articolo, questo pasticcio che avevo buttato dentro, se vi ricordate qui, nel body del nostro articolo, ecco, qui c'è ancora scritto reporter, andrebbe cambiato in author, salva, f5, ecco qua, author admin, published 3 luglio 2020, che è quando avevamo inserito questo articolo nel database, fondamentalmente. E come vedete, in relativamente poco sforzo, tutto sommato, in non troppo tempo, siamo in condizione di, inserire i nostri articoli tramite, adesso ho aperto troppa roba, fatemi chiudere un attimo, così ripercorriamo tutto il percorso. Partiamo dall'inizio, abbiamo generato un nuovo modello articolo, da questo modello articolo, abbiamo creato un'interfaccia amministrazione, che ci permette tramite il sito amministrazione, di inserire nuovi articoli nel database. A questo punto abbiamo creato una nuova view, ereditata da DetailView, che va semplicemente a implementare, il model articoli, senza che abbiamo aggiunto nulla di specifico. Per il momento abbiamo reimplementato il GetContextData, anche se di fatto non ci abbiamo fatto nulla di nulla, quindi tecnicamente potevamo anche non farlo, questo passaggio. È solo una preparazione per quello che verrà dopo. Una volta creata la DetailView, abbiamo aggiunto a URLs la nostra DetailView, con un percorso costruito sulla base dello slag, e abbiamo collegato i nostri URL della app Articles allo URL dell'applicazione generale. Con tutto questo siamo in grado di inserire articoli e vederli visualizzati in una pagina. Ovviamente in questo momento dobbiamo scrivere a mano il percorso, ma a breve vedremo come fare in modo di generarlo automaticamente. Direi che però per questo video è tutto, perché è già durato abbastanza. Abbiamo messo un sacco di carne al fuoco, abbiamo sicuramente approfondito molti aspetti che nella landing page avevamo visto solo superficialmente, e ne abbiamo introdotti di molti altri che dovremmo approfondire molto di più. ad esempio tutta la parte del template con questi costrutti che non abbiamo ancora esaminato per accedere ai dati dell'articolo, del model. Quindi per il momento teneteli in stand by le domande sul template, perché sicuramente andremo a fare un approfondimento nei prossimi video. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, e ci vediamo nel prossimo video.